Salve a tutti, questo è il talk sulla sitesi molecolare tramite modelli generativi con PyTorch. Innanzitutto, qualche informazione sui di me. Sono l'arote di internare in informatica, alla sapienza, frequento il corso di laurea magistrale in computer science, cioè un punto di informatica. Le mie principali arie di interesse sono l'ingegneria del software e l'intelligenza artificiale e sono un vero appassionato di programmazione e di sviluppo in generale. Ma soprattutto sono vicepresidente e tesorario dell'Orbiato Linux. Per poter affrontare il tema della sintesi molecolare e dei modelli generativi è necessario innanzitutto fare una breve introduzione fra intelligenza artificiale e machine learning. Il machine learning è un'area dell'intelligenza artificiale che si basa sullo sviluppo dei sistemi, o per meglio dire modelli, capaci di apprendere senza essere programmati esplicitamente. È necessario che questi modelli svolgano un processo di apprendimento, una fase di apprendimento che si chiama appunto training, osservando dei dati, dei specifici dati, che sono finalizzati a questo processo di apprendimento e chiamati appunto training data. Successivamente a questo processo di apprendimento il modello può effettuare delle predizioni o comunque delle operazioni su altri dati che non sono stati precedentemente osservati. Una specifica riga del machine learning è il deep learning, che utilizza metodi da algoritmi di apprendimento basati su retini orali. In pochi anni la modellazione generativa, che è basata appunto su deep learning, il termine tecnico è deep generative modeling, ha dato vita a sistemi autonomi che producono e generano automaticamente immagini, musica e testi anche originali. E ispirata a questi successi un nuovo campo di applicazione è la generazione e ottimizzazione di nuove molecole e di nuovi composti chimici. Inoltre la progettazione di nuovi farmaci, il cui termine tecnico è di nuovo drugs, mira a generare nuovi composti chimici con proprietà chimiche farmacologiche desiderabili, utilizzando appunto le metodi automatici. Innanzitutto è necessario sottolineare un collegamento fra l'open source e i framework per sviluppare, allenare e utilizzare reti neurali. Questo è solo un piccolo sottoinsieme di tutti i framework esistenti, alcuni di questi, ma ce ne sono veramente molti. Ad esempio c'è TensorFlow, Keras, Teano, PyTorch, che è appunto quello che oggi esamineremo, c'è la implementazione in Python del framework Torch. Poi c'è DL4J, che è un framework per reti neurali in Java ad esempio, e non in Python. E poi ce ne sono molti molti altri. Innanzitutto è necessario scegliere una rappresentazione delle molecole, ce ne sono vari rappresentazioni. In questo caso utilizziamo una rappresentazione come grafico, come molecole come grafico, per meglio dire come grafico 2D. La nostra molecola è, diciamo, espressa e rappresentata tramite questa sequenza di caratteri che si chiama StringaSmile. Questa StringaSmile, utilizzando delle librerie open source Python, una libreria specifica o utilizzata per la camera informatica e il machine learning, è possibile ottenere una rappresentazione da questa stringa a quest'altra rappresentazione visuale della molecola. E già da questa tipologia di rappresentazione si può osservare che ha qualcosa in comune con i grafi. Sempre tramite questa libreria è possibile ottenere, che dopo citerò, è possibile ottenere appunto la matrice di adiacenza, che è questa matrice qua, cioè una matrice binaria sparsa, dove molti degli elementi sono zero e gli altri appunto sono uno. E da questo è possibile ottenere una rappresentazione proprio come grafo e utilizzando anche librerie appunto per Python, per grafi, dove essendo Python è proprio un linguaggio dove le librerie, cioè i grafi sono molto ben supportati, esistono molte librerie utili e molto ben sviluppate, molto ben progettate. La matrice di adiacenza permette appunto per ogni nodo di poter definire quali sono i nodi adiacenti, quindi quali sono gli altri nodi a cui quel nodo è collegato. Libreria open source per grafie molecole abbiamo RdKit, che è appunto la libreria che precedentemente è nominata per Archimia Informatica e Machine Learning. NetworkX è una delle tante librerie in Python, che in questo caso ho utilizzato per la rappresentazione proprio come grafo, ma anche appunto si utilizza per grafi, per le operazioni su grafi, per tante altre cose. È molto molto ben sviluppata. E poi è infine NumPy. NumPy è una libreria per la matematica, per il calcolo matriciale e vettoriale, che è molto utilizzata nel momento in cui magari si passa da una rappresentazione proprio con nodi ad archi a una, ad esempio appunto matriciale, e permette appunto i calcoli vettoriali in modo molto efficiente. Il punto qual è? Il punto è che le reti norali non prendono un input a dei variori che si chiamano categoriali, o per meglio dire dei valori che non sono valori numeri, valori reali diciamo. Il tipo diciamo di dato che prende in input a una rete norale e che restituisce in output a una rete norale si chiama tensore. Quindi è necessario un processo di trasformazione da questa stringa smile al tensore. Per fare questo uno dei possibili procedimenti, ma non è l'unico, ce ne sono molti altri allo stato dell'arte, è appunto il one-hot encoding. Il one-hot encoding è molto utilizzato appunto per questa trasformazione, soprattutto ad esempio nell'NLP, cioè nell'elaborazione del linguaggio naturale, in cui si vuole codificare una frase seguita da una sequenza di parole, si codifica e si ottiene appunto un vettore spanso, un vettore dove tutti gli elementi per ogni parola, un vettore dove tutti gli elementi sono zero, tranne uno che è proprio la parola che vogliamo rappresentare. In questo caso non si ha una frase, quindi non si ha una sequenza di parole, ma si ha una sequenza di caratteri, quindi ogni elemento che verrà rappresentato nel vettore sarà un solo carattere e questo sarà il nostro dizionario, perché nel one-hot encoding è necessario un dizionario che contiene tutte le possibili parole del nostro dataset. Da questo punto si effettua il one-hot encoding che si ottiene un'altra matrice sparsa e poi da questa, che può essere esempio un'ompire array, si ottiene un tensore che è essenzialmente anche essa una matrice. Il modello, tra vari modelli generativi che sono stati vagliati e utilizzati, abbiamo scelto di utilizzare un Valashian Autoencoder. Questa è l'immagine appunto di un autoencoder semplice. Il Valashian Autoencoder è un autoencoder che usa delle assunzioni probabilistiche per poter organizzare e apprendere meglio quello che si chiama spazio latente. Innanzitutto l'autoencoder consta di due reti norali, una che è l'encoder e una che è il decoder. L'encoder ha il ruolo di prendere l'input, cioè il nostro tensore, e di rappresentarlo in uno spazio dove la dimensione, la dimensionalità è ridotta, si chiama appunto spazio latente, che è il nostro code. Il decoder prende appunto in input un elemento del nostro spazio latente e lo riporta alla rappresentazione generale. Quindi se si pensa all'iter completo, encoder, decoder, si dovrebbe ottenere la stessa, teoricamente la stessa matrice, un'autoencoding di partenza. E questo iter è appunto il processo di apprendimento dell'autoencoder. Cioè l'autoencoder va a minimizzare quello che si chiama l'erroi di ricostruzione, va a risolvere quello che è un problema di ottimizzazione, nel problema di ottimizzazione, quella che è la funzione obiettivo, cioè la funzione che si cerca di massimizzare o di minimizzare. Cerca appunto di minimizzare questo errore. Minimizzando questo errore, quello che fa di fatto l'autoencoder è apprendere, va a risolvere l'autoencoder, è apprendere quello che si chiama lo spazio latente. Il fatto che utilizziamo queste assunzioni di probabilità è molto importante, perché l'autoencoder normale è molto buono nel momento in cui si vuole fare la ricostruzione, cioè perché mappa l'elemento iniziale nello spazio latente molto bene e poi lo può decodificare. Ma nel momento in cui devono essere generati nuovi esempi, il latoencoder standard faticherebbe perché non ha uno spazio latente buono, cioè non è organizzato in maniera tale che può essere appreso dal modello. Questo ad esempio è un encoder che abbiamo scelto di utilizzare, dove c'è l'encoder e il decoder. L'encoder è una sequenza di convoluzioni 2D, susseguiti nel mezzo, che è un'operazione lineare, susseguiti nel mezzo di una funzione di attivazione non lineare, che è abbastanza standard come pranzi, e nel nostro caso è la relu. Si ha un primo lay per la relu, un secondo lay per la relu e anche un terzo per la relu. E poi, come richiede il barasciano del encoder, si hanno due operazioni lineari, cioè due, si chiamano linear map, cioè applicazioni lineari. Una per la media è una parla varianza che appunto richiama proprio il discorso dell'assunzione probabilistica, che è stato spiegato poco fa. Nel decoder si ha, inizialmente, che è sempre un modo standard, una prima operazione lineare, una prima applicazione lineare dall'applicazione dello spazio latente, e poi si hanno tre layer convoluzionari, dove in questo caso si ha la convoluzione trasposta, in modo da ritornare a quello che era l'input di partenza. L'unica differenza è che, mentre dopo i primi due layer viene di nuovo utilizzato un relu, nell'ultimo viene utilizzata un'altra funzione di attivazione che si chiama sigmoid. Questo perché nel nostro loss function, cioè nel nostro errore di ricostruzione, la parte che è proprio specifica l'errore di ricostruzione, loss function sarebbe funzione di errore, abbiamo utilizzato la cross-entropy loss, e questo richiede utilizzare nell'ultimo layer, diciamo, del decoder la sigmoide. PyTorch permette molto agilmente di implementare un modello, infatti queste, ad esempio, sono poche ride dove si può implementare una ride convoluzionale, questo assomiglia un po' all'encoder che abbiamo recentemente spiegato, ma non è proprio l'encoder. Di allenare il modello, di salvare un modello allenato, anche perché magari può succedere che l'allenamento di alcuni modelli duri ore su alcuni articoli scientifici di ricerca durano anche giorni, quindi è normale che ogni volta che va fatto poi un'operazione successiva si debba allenare il modello qualche giorno e diventa improponibile. Caricare i modelli preallenati e utilizzare quel modello per quello che si chiama inferenza, cioè magari ci sono delle operazioni di evaluation, di analisi successive che ci sono prevede nel modello che si è già allenato e quindi è possibile fare anche questo. È possibile anche allenare un modello, non finire tutto l'iter di allenamento, salvare il modello fino a quel momento e poi riprendere l'allenamento dopo, in un momento successivo. Anche perché quello che fa di fatto l'allenamento è quello di modificare i pesi in modo tale di apprendere bene i dati, quindi si salvano lo stato dei pesi, i valori dei pesi in quel momento e poi si rimodificano in un secondo momento. Il setting del modello qui, intanto ci sono dei setting generali, viene utilizzato quello che si è uno mini-badges, cioè nel processo di allenamento dobbiamo analizzare tutti i training data, cioè tutti i dati di allenamento. È possibile prendere questi dati a piccoli insiemi e aggiungendo un po' quello che è lo shuffling, cioè un rimischiare questi dati che ha un effetto di regolarizzazione, cioè migliora le prestazioni del modello, è possibile allenare a piccoli insiemi. E alla fine, una volta che abbiamo preso questi dati, abbiamo pescato questi dati tante volte, in modo che abbiamo visto tutti i dati presenti nel nostro dataset, sia quella che si chiama appunto un'epoca. Cioè un'epoca è quando il nostro modello ha osservato tutti i dati, quindi è un'iterazione. In questo caso sono state fatte 17 iterazioni. È necessario anche nell'auto-encoder specificare la dimensione dello spazio latente, che è 196. e in questo caso è stata scelta una particolare dimensione, che è in the channels, che viene utilizzata nel layer convoluzionale, diciamo in modo crescente, nei layer convoluzionali del primo e il terzo layer, che è di 32. L'ottimizzatore è stato scelto di utilizzare il Siam Adam, che è noto per essere molto buono, e la S-Function, quella che precedentemente l'ho citato, è la cross-central.loss più la KL. La KL è una misura di divergenza che garantisce le nostre assunzioni di probabilità, in modo che lo spazio latente sia organizzato in modo ottimale per essere appreso. Questi appunto sono i setting dei layer, poi c'è anche la kernel size, stride e pending, che sono specifici setting necessari per la convoluzione, e poi sono i due layer lineari, che hanno delle feature in input e delle feature in output. Quelli in output è necessario che siano pari appunto alla dimensione dello spazio latente scelta, cioè 196. Il dataset utilizzato è il dataset Zinc. Il dataset Zinc è un dataset appunto di molecole, reperibile tranquillamente online, che contiene il dataset completo, contiene più di un milione di molecole, mi sembra, e questo è un sottinsieme che contiene approssimativamente 250.000 molecole, e ho visto che molti molti paper allo stato dell'arte o utilizzano questo, o utilizzano anche questo nell'allenamento, e quindi ho stato scelto di utilizzare questo per questo lavoro. Come dicevo prima, c'è un'appunto minimizzazione dell'errore di ricostruzione, questo è lungo le epoche, cioè al termine di ogni epoca qual è l'errore di ricostruzione, si può vedere che partendo appunto da un errore, diciamo, un po' più di 400, si tiene un errore molto molto basso. E' stato anche misurato, diciamo, l'accuratezza di ricostruzione, cioè la percentuale delle molecole correttamente ricostruite e la percentuale di molecole ricostruite che sono chimicamente valide. E' stato innanzitutto poi deciso, tra le 250.000 molecole, di prendere, di prendere sia le molecole che sono a lunghezza minore o uguale a 60, erano molto poche le stringa, in questo caso si parla di stringa smile, le molecole che hanno la loro stringa smile di lunghezza strettamente maggiore di 60, e poi di dividere il test risultante in training set e test set con una percentuale di 70% training set e 30% test set con l'accuratezza del 99% sul training set, che è quello dove il nostro modello si è allenato e una validità, cioè le molecole chimicamente valide ricostruite sono il 99.94%, quindi probabilmente ci saranno una o due o comunque qualche molecola che non è stata correttamente ricostruita ma che comunque risulta essere chimicamente valida. Analizzando questo nel test set, che è quello che effettivamente conta perché si vede da questo punto di vista, cioè dal punto di vista della ricostruzione, quanto bene il nostro modello generalizza, quindi quanto bene il nostro modello ha appreso, si ha il 96,8% di accuratezza della ricostruzione e poi c'è il 97.91% di validità, quindi ci sono alcune molecole, come prima, che non sono correttamente ricostruite ma abbiamo sempre ottenuto qualcosa che è chimicamente valido. E questa infatti è la ricostruzione, questa è una griglia di molecole, queste sono quelle originali e queste sono quelle che siamo ricostruite, in questo caso sono tutte state correttamente ricostruite, infatti sono praticamente identiche. Un secondo punto task è quello che è la sintesi di molecole, dove è possibile generare nuove molecole, non si parte da un esempio di input che già si ha, ma si girano nuove molecole. Si sceglie una molecola di partenza, in questo caso questa è la molecola dell'aspirine, nel momento in cui si è stata progettata la rete neurale, si è scelta una distribuzione di rubabilità, appunto per lo spazio di denti, che in questo caso è la nostra normale, e si ottiene la rappresentazione dello spazio latente di questa molecola, che è questa qua, che funge da media e si approssima con standard deviation per il campionamento più la rappresentazione dello spazio latente che è effettivamente la media e questa è proprio un'approssimazione, formula probabilistica per l'approssimazione, sempre che richiamo sempre il concetto di assunzioni, diciamo di alcune assunzioni probabilistiche che fa il modello. E questo succede perché perturbando la rappresentazione dello spazio latente, quindi queste medie, si ottengono molecole nuove, ma sono comunque topologicamente simili. E questo perché? Infatti se si prende la molecola dell'aspirine, è una standard deviation di 0.065 come valore in questa formula, si ottiene appunto una molecola che sono differenti, perché magari hanno altri atomi, perché magari hanno dei legami differenti, che però si vede che sono proprio topologicamente simili, che magari hanno più legami, ma sono topologicamente simili, infatti sono molto simili a livello proprio strutturale. Un'altra è appunto la molecola del Tamiflu, che sempre con una standard deviation di 0.065, si ottengono anche in questo caso delle molecole topologicamente simili, in questo caso un po' più dissimili, ad esempio questa molecola, quest'altra molecola sono più dissimili rispetto alla molecola di partenza. Però l'idea è stata sempre lo stesso, l'idea principale è stata quella di fare i 5.000 campionamenti, e vedere qual è il risultato delle molecole generate. E per questo appunto si possono calcolare alcuni score, sia sull'aspirine che sul Tamiflu. Intanto sui 5.000 campionamenti, si è vista la percentuale sui 5.000, di molecole sintatticamente valide, cioè la stringa smile ha una sintassi ben precisa che deve essere rispettata, e appunto non tutti i 5.000 campionamenti, non tutti i 5.000 sample possono restituire una molecola sintatticamente valide, possono anche restituire un qualcosa di spuio che non è apprezzabile, non è niente di sensato. In questo caso si ha il 30%, sulla spina il 30,84% di molecole sintatticamente valide. Su questo 30,84% si hanno 64,66% di molecole chimicamente valide. C'è l'uniqueness, che è l'unicità, cioè sulle molecole, rispetto alle molecole sintatticamente valide, la frazione di molecole che sono uniche, perché è possibile che magari due campionamenti, cioè diversi campionamenti possono dare la stessa molecola, e non detto che siano appunto proprio differenti, e comunque però risultano essere chimicamente valide. Questa è la novelty, cioè la frazione di molecole nuove, generate, la frazione di molecole generate che non sono presenti nel training set, e quindi risultano essere nuove, e tutte le molecole generate sia una frazione appunto del 100%, anche perché la spring stesso in questo caso non è nel training set, e quindi anche in questo caso si ha un modello che generalizza molto bene. Questa è la percentuale, o meglio la frazione, di similarità, perché la similarità fra due molecole, cioè si calcola fra due molecole, in questo caso si è scelto di utilizzare una similarità topologica, cioè di similarità strutturale, ma non c'è una vera e propria e rigorosa definizione di similarità, e infatti ci sono diversi modi per calcolare la similarità, e quindi questa, la similarità è stata calcolata a copie di tutte le molecole generate, e quindi è poi stata fatta una media generale del valore ottenuto rispetto alle molecole chimicamente valide, e quindi si è una similarità del 56.65%. Stessa cosa appunto sul time flu, dove sui 5.000 solo 5,48% sono stati, campionamente sono risultati essere molecole sintatticamente valide, e di questi, diciamo, percentuali, 65.14% siano molecole chimicamente valide. In questo caso, chiaramente ricordate che la standard deviation è sempre la stessa per entrambe, quindi i risultati, gli percentuali, gli score, cambiano anche a seconda della molecola. Si ha una uniqueness, cioè una frazione di molecole uniche di 83.13%, quindi molto più alta, e una novelty sempre al 100%. Avendo una frazione di molecole uniche più alta, si ha anche una similarità più bassa. Infatti questa è una cosa che ci si può aspettare, che è significativa e è come dovrebbe essere. Questo è solo un piccolo estratto di uno studio effettuato che coinvolge più modelli, con differenti training, e con tuning specifici. Per tuning si intende dei settaggi, cioè io ho utilizzato due modelli con differenti settaggi, vedendo qual è il settaggio migliore, poiché non solo è ottimo il modello, ma anche un modello con uno specifico settaggio. Non è sempre necessario in realtà cercare una nuova tipologia di modello, ma a volte è semplicemente necessario fare un tuning accurato, in modo di ottenere il settaggio ottimale, e in quel caso si ottiene anche un modello molto molto buono. Inoltre è stato fatto uno studio sulla ricostruzione, e sulla sintesi di molecole molto più ampio. Questo perché? Perché non ho utilizzato solo un valore per la standard deviation, ma tre valori sulla standard deviation per ogni modello, e entrambe le molecole, quindi è stato fatto, diciamo, un po'... Sulla sintesi è stata fatta una ricostruzione, una sintesi molto più ampia. La ricostruzione è stata fatta sia training in test set per entrambi i modelli. La durata dei vari training e dei vari tuning che ho fatto vanno dalle due ore e mezza alle sei ore e mezza utilizzando la piattaforma preconfigurata con GPU, che è appunto offerta da Google, che si chiama Google Collab. Google Collab è una piattaforma che offre un servizio di cloud hosting per i Upadere notebook, tramite il quale è possibile creare dei documenti che sono ricchi sia di codici, di grafici, di testi, di link, di immagini, poiché oltre al codice Python è possibile scrivere tramite un codice, un particolare linguaggio che si chiama appunto Markdown, dove è possibile inserire proprio delle formule dei link, delle immagini, ma anche dei video e essere proprio renderizzate in modo ottimale. Collab viene eseguito su delle virtual machine cloud e propriamente su sistemi operativi Linux, dove c'è appunto 18.04, con Python 3.6 attualmente, potendo così sfruttare tutte le potenzialità Linux. Uno dei maggiori benefici che Collab, come ho detto in precedenza, ha potuto utilizzare o GPU, cioè Graphic Processor Unit, o TPU, cioè Tensor Processor Unit, per il Training dei Redi Neurali, che è la parte più importante e quella più lunga nella progettazione, dello sviluppo, nell'evaluation, diciamo, in un task completo di deep learning. E' possibile utilizzare framework come Tensor Flow, quindi anche Keras e PyTorch. PyTorch, dall'altro canto, permette molto facilmente, molto agilmente, di spostare dati e modello, perché chiaramente, su CPU e su GPU, chiaramente usano una memoria differente, e non è possibile processare i dati sulla CPU e il modello sulla GPU e viceversa, entrambi o tutti da una parte o tutta dall'altra. Essendo Collab già preconfigurato con un ambiente appunto CUDA, cioè appunto, è possibile ottenere miglioramenti, siamo notevoli, sia i tempi di training che sia per l'inferenza, soprattutto su modelli complessi come questo, ma soprattutto per il training, perché è proprio il processo più, la parte più impegnativa, più pesante di tutto il task. Tra le fonti, in parte i loghi, i loghi utilizzati, tutti recuperati da GitHub e regolarmente citati, le due immagini, l'immagine dell'autoencoder e le immagini dei tre insiemi, intelligenza artificiale, machine learning e deep learning, queste sono le fonti, i due paper da cui mi ho preso spunto, che sono due paper che fanno un po' il review dello stato dell'arte sulla generazione molecolare e questi sono due notebook esplicativi e un po' introduttivi su Collab. Uno di questi è, innanzitutto, uno di questi è questo qua, è il, che, diciamo, mostra un po', fa un'analisi introspettiva, appunto, di Collab, fa vedere, appunto, un video iniziale dove è possibile notare che è possibile anche una poch' diciamo, tramite, sempre l'utilizzo di codice Pynon poter vedere video da YouTube. Intanto qua fa uno studio, appunto, proprio introspettivo, nel senso che analizza qual è il sistema operativo delle macchine virtuali, quindi qual è il sistema operativo su cui Collab c'è si base e, appunto, è proprio, diciamo, Ubuntu 18.04.3. Infatti, con le speciali direttive è possibile proprio lanciare i comandi da terminale, come LS, come PQD. Ad esempio, è proprio possibile leggere il file della release del sistema operativo da cui proprio si può vedere che sopra c'è il sistema operativo Ubuntu 18.04. Qua fa un'analisi, appunto, delle GPU, ma non è detto che ad ogni Collab funziona con le sessioni, quindi non è detto che in ogni sessione sia sempre la stessa GPU. L'altra cosa molto interessante è che si può utilizzare Google Drive. Cioè, nella nostra sessione è possibile nella cartella slash.content caricare i nostri dati, ma i dati sono temporanei, cioè vengono memorizzati solo per la tutta della sessione, in cui decate i nostri dati. Collegando Google Drive, il nostro Google Drive, è possibile mantenere i dati persistenti perché vengono direttamente salvati sul Drive personale. Quindi, abbiamo una configurazione iniziale dei path, dei path necessari, poi è possibile avere i propri dati persistenti. E qua ci sono altre varie guide, ad esempio, a Tensor, a FlopPandas, che è per la gestione dati, sempre una libreria open source, la guida a Markdown. un altro notebook che volevo mostrare è quello appunto del lavoro che ho effettuato, dove è presente il mio codice, la spiegazione fatta proprio in Markdown, scritta proprio con questo speciale linguaggio, e poi utilizzo esternamente un po' come fosse una libreria del codice che ho sviluppato, e ad esempio un estratto è questo qua, cioè il codice appunto dell'encoder e del decoder che precedentemente ho sviluppato, che ho precedentemente spiegato, dove appunto ad esempio qua nel nostro costruttore della classe, cioè si edita una classe che è la classe module, che come non è come precedentemente ho spiegato quella piccola rete norale, qua va fatto un lavoro un po' più su programmazione oggetti, qua nel costruttore istanzio definisco istanzio i vari layer, i vari layer necessari, le mie funzioni di attivazione lineare, e poi nel metodo forward, che è il metodo quello che viene poi lanciato nel momento del training, definisco proprio la sequenza di operazioni che rispecchia esattamente che rispetta esattamente questi qua, i grafici che ho fatto questi qua c'è prima un layer 2D una funzione di attivazione un altro layer 2D una funzione di attivazione eccetera eccetera e infatti se torno sul se vado sul mio encoder ho proprio una evoluzione funzione di attivazione e quindi nel caso in cui utilizzassi dropout layer 2D funzione di attivazione layer 2D questo è sempre layer 2D ogni comb 1 comb 2 comb 3 sono sempre layer 2D e quindi si ha esattamente quello che ho spiegato è molto definire un modello complesso come un encoder cioè encoder e decoder è molto molto facile e molto agile in PyTorch non richiede grandi grandi se non si costruisce la rete norale con da from scratch cioè da da zero ma PyTorch fornisce un'ampia diciamo delle interfacce insomma delle classi sono molto molto valide e questo e queste poi sono le altre fonti che sono da dove ho preso appunto gli smile delle aspirine del timeflow e il resto di immagini grafici e tabelle sono state personalmente prodotte perché non sono stati citati in precedenza buon Linux Day e grazie per l'attenzione di immagini per l'attenzione di immagini ... perlotte